Entra nel vivo la seconda fase della piattaforma Abruzzo Sanità Online che consentirà a tutti i cittadini che scaricheranno l'apposita app di accedere a funzioni digitali della sanità regionale abolendo le file agli sportelli dei CUP. Un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione e semplificazione dei servizi sanitari al cittadino come sottolineato in conferenza stampa da Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità. Nella prima fase abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri cittadini di mettere in rete le loro richieste sia da un punto di vista di scelta irrevoca sia della tesserino sanitario sia delle prenotazioni, un CUP digitale. Adesso parte la seconda fase dove andremo ad ampliare il fascicolo sanitario e quindi una sanità di prossimità e soprattutto dobbiamo mandare una informazione perché vedo che purtroppo anche presso i CUP nei distretti ci sono ancora delle file interminabili e quindi chiedo specialmente a voi della stampa di portare avanti questo tipo di informazione. L'applicazione alla quale si accede tramite speed o carta di identità digitale è scaricabile sul portale sanità.regione.abruzzo.it come spiega Camillo Odio, ingegnere del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. L'app è funzionante ormai da diverso tempo, quasi un anno, anzi due. Quello che è nuovo sono i servizi che abbiamo integrato. L'accesso è semplice, si scarica sullo smartphone, è accessibile anche dal pc e ci si registra attraverso speed quindi si è riconosciuti e da lì si possono prenotare prestazioni specialistica, associare i propri figli con atto di delega o verificare le vaccinazioni effettuate nel tempo, spostare gli appuntamenti di screening. Alla conferenza stampa che si è svolta presso il Museo delle Gentili d'Abruzzo di Pescara ha preso parte anche Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Questa app risolve il problema delle file al CUP ma non i tempi di attesa perché manca ancora personale sanitario. Tanto questa app contribuisce anche a ridurre i tempi delle liste d'attesa perché razionalizza mettendo in sinergia tutte le ASL e quindi tutti i servizi, ti offre quindi in maniera più immediata servizio più disponibile mentre fino a quando i CUP erano gestiti a livello provinciale ogni ASL aveva il suo, non dialogavano i sistemi, tu potevi non sapere che magari il servizio che in quell'ospedale ci metteva tre mesi o sei mesi o nove mesi per essere disponibile a pochi chilometri di distanza poteva essere disponibile prima. Aiuta anche ad evitare il fenomeno delle prenotazioni che poi non si rispettano e che occupano spazi in maniera inefficace perché si può molto più facilmente poi comunicare la decisione magari di non fare più quell'analisi e quindi di permettere a qualcun altro di subentrare. Poi certo c'è il tema del personale che si sta affrontando in tutta Italia con il supporto del governo, ci sono 3 miliardi in più sulla sanità pubblica nel prossimo bilancio per andare ad assorbire le liste d'attesa che hanno subito evidentemente anche il danno della lunga stagione Covid.